Ora diamo un'occhiata ad alcuni articoli che il gruppo Liber vanta sul proprio sito web. Ecco i titoli. Il futuro del controllo mentale. Le persone raffinate dalle macchine sono vicine perché gli scienziati hanno sviluppato minuscoli nanosensori scalabili. I sensori lavorano sotto copertura per superare in astuzia il cervello umano. La bioelettronica annuncia un cyborg. I transistor al grafene possono diventare biosensori elettronici? Quindi possiamo vedere che Liber e i suoi collaboratori hanno lavorato sulla tecnologia per molti anni che possono trasformare le persone in biorobot. Interessante con l'uso del grafene, ma non solo. Nel 2011 Liber è stato uno degli scienziati che ha brevetato un metodo per sequenziare il DNA utilizzando il grafene. Vediamo ora con chi, tra l'altro, ha collaborato. Con Robert Langer, cofondatore della nota azienda Moderna. Ecco una foto di loro insieme. Robert Langer di Moderna è il primo da destra. A cosa stavano lavorando insieme? Leggiamo dal documento ufficiale. Gli scienziati hanno creato per la prima volta un tipo di tessuto cyborg incorporando reti tridimensionali di nanoconduttori funzionali biocompatibili in tessuti umani modificati. Liber e Langer hanno annunciato di essere finalmente riusciti a creare una sorta di nanoelettronica che il corpo non rifiuta. C'è nuove, come si chiamano genetiche, come siRNA, che possono riuscire i geni, o DNA o mRNA che possono riuscire i geni. Secondo il sito web di Charles Lieber, uno degli sponsor del suo lavoro, oltre ad Harvard e Wuhan University, c'è DARPA, Agenzia Militare Americana per le Moderne Tecnologie. DARPA ha anche finanziato il lavoro di Robert Langer e Moderna per inventare il vaccino che ora ci stanno dando. La stessa DARPA nel 2018 ha lanciato un programma scientifico denominato N3, vale a dire Neurotecnologia Non Chirurgica di Nuova Generazione. Lo scopo del programma è ovviamente come suggerisce il nome, creando un'interfaccia cervello-macchina senza la necessità di operazioni chirurgiche. Tornando a Charles Lieber, anche se non era un virologo, era interessato ai virus ed esattamente come superano la barriera naturale e arrivano al cervello. Pertanto nel 2018 ha studiato come il virus dell'encefalite equina venezuelana penetra la barriera ematoencefalica che la sua tecnologia non è riuscita a superare con successo. E alla fine è una tale coincidenza. Secondo un recente studio dei licenziati di San Diego, anche lieve ma cronica costante ipossia provoca disturbi della barriera ematoencefalica.